Exoratics, oggi vi presento questa bellissima Audi A1 Sportback nell'allestimento S-Line Edition. Motorizzazione 1116 CV, benzina. Sul frontale troviamo subito questo bellissimo logo che spicca al centro della vettura e i sensori di parcheggio anteriori. I cerchi sono in lega da 17, qui ritroviamo la targhettina per ricordare il tipo di allestimento. Gli specchietti sono ripiegabili e richiudibili elettricamente. E vediamo subito questo bagagliaio della capienza di 270 litri con comoda retina portaoggetti. In dotazione il doppio set di tappetini in gomma. Sensori di parcheggio anche sul posteriore. Interni in tessuto nonostante le dimensioni molto spaziosi. Come potete vedere il cambio è manuale, il cruscotto è digitale e il volante con i comandi multifunzione. Bracciolo centrale per una maggiore comodità, touchbat per la gestione dell'infotainment. Il climatizzatore è automatico. Si tratta di una vettura in articolata del luglio 2019 che ha percorso solamente 27.000 km. Per maggiori foto e informazioni andate sul nostro sito Rackets.com e fissate un appuntamento per fare un test live.